Marco, ti ho coinvolto in questo video perché ieri mi è capitato l'ennesimo problema uguale. Ero davanti a una cavolo di linea, c'era il problema di operare vicino delle lame, c'era un bisogno di guanti e io non so riconoscere i guanti giusti. Mi prendono più il culo ogni tanto se stanno i guanti, non so se sono consumati, l'etichetta ogni tanto non si legge. Ho bisogno che tu spieghi a me e a lui, a te che mi stai guardando, come si fa capire se un guanto va bene o non va bene per l'antitaglio. Ma hai qualche guanto da mostrarmi? Allora, guanti da mostrarti ne abbiamo, anche diversi. Fa vedere. Lo sto allenato, ci porta qualcosa. Guarda quanti guanti. Allora. Ma come faccio a capire se è antitaglio? Allora, un guanto antitaglio, la prima cosa da guardare è il pittogramma, che è questo qua. Ah, il numerino in basso? E c'è il secondo numerino, che è il 5. Ah, ok. Il 5 vuol dire antitaglio? Vuol dire antitaglio, quindi la scala va da 0 ovviamente a 5, il 0 non esiste, il 5 è il top. Quindi quello che vi garantisce la... Ma quindi è il numero 3? Il secondo numerino numero 3 che cosa? È una via di mezzo, è un guanto che non è estremamente performante come antitaglio, ma è già un buon guanto. Ah, quindi il secondo numero indica l'antitaglio? Indica il livello di antitaglio che è stato testato sul tipo di guanto. E questo qua è un buon guanto antitaglio, ma c'è un'etichetta dentro o è sempre fuori? No, no, allora, deve esserci per obbligo, per la certificazione CE, il pittogramma esterno stampato sul guanto. Ah, ok. In allegato viene dato in ogni mazzetta di guanti la scheda di conformità cartacea per registrarla. No, ma come si vede se quel CE è giusto? Ci sono quattro cifre piccettine. Ci sono, ci sono, anche quelle. Vedi, vedi, vedi. Questo è un guanto giusto. Abbiamo chiesto a lui perché lui vende i dispositivi di protezione e di persone che per vendere ti vendono la sola pur di fare un soldino in più. Ce n'è una valanga. Noi abbiamo chiamato lui per spiegarvi cos'è un guanto antitaglio. Guarda quanti guanti ci sono. No, ok. Sì, sì, sono una valanga. Fidati. Ciao.